ciao a tutti ragazzi qui è buttafuori e oggi sono qui su far cry primal ho scelto questo gioco proprio perché a me la preistoria mi è sempre piaciuta come l'antichità e il medioevo e soprattutto anche perché mi fa tornare in mente empire earth nel periodo della preistoria bene direi di iniziare subito nuova partita difficoltà normale animazioni quando frughi ovviamente sì ok ho detto che iniziamo a via via ecco era sotto era lì davanti ai miei occhi e non l'ho visto i viaggiatori wenja lasciano sacche di scorte ok adesso tra poco caricamento è pronto struisce la capanna 2016 15 14 stiamo tornando indietro del tempo ed eccoci qua nella preistoria 10.000 anni avanti cristo europa centrale l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto Grazie a tutti. 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 Ok, andiamo piano piano... Con i piedini di fata... Silenzio, sennò quel mammut ci scopre... Dire che sono guai è veramente poco. Ok, ok... Ok, ok... Allora, andiamo piano piano... Ok, ok... Ok, ok... Ah, vado a fuoco... Avanti mammut... Vieni qua... Stupido mammut... Non ci credo... Non ci credo, sono già morto... Sono stato troppo avventato a quanto pare... E vabbè... E vabbè... O lo uccidiamo... O lo uccidiamo... Poveretta... Poveretta... Preso in pieno... Avanti... Avanti... Non facciamo scappare la nostra cena... Crepa... Oh, è rotta... Ed è morto... Si mangia... Che bello... E ora... E ora... Reclamiamo al bottino... Non... Non... Non è morto... 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 me la pagherai e e e e e e e e povero ok adesso viene seppellito esatto serve un'arma ok per fare un arco serve del legno di ontano canne non quelle da fumare e dell'ardesia stupida tigre sta zitta ok eccolo lì altro legno e ora le altre risorse mi servono ah ecco con questo posso trovare le risorse e ho trovato anche l'ardesia ok 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 con queste risorse posso fare l'arco eccolo qua eccolo qua ecco ecco così è bello teso e dovrebbe far male quella tigre ma le frecce eccole qui ok 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 ora vederci e ecco 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 Ho trovato dell'Ardesia. Ok, andiamo piano piano. Che sento dei rumori di animali qua vicino. E ci sono anche delle risorse. Quella lì è una capretta. L'ho presa in testa. Però le altre ovviamente scappano. Buona, eh? Ti piace la carne di capra, eh? Ok, passiamo alla prossima capra ora. Capra, capra, capra! Ecco. Sgarbi caccia le capre. Oh, che cecchino. L'ho presa in pieno. E anche il collo. Ok. Ok. Vediamo un po' se riesco a trovare... Eccola lì, un'altra capra. Avanti, capra! Tranquilla capra, non è niente. Anzi. Ok. Dove seguire la capra di prima. Ardesia, selce. Legno diontano, legno duro. Un po' se riesco a trovare 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 un po' se ries